Gli attentati di Barcellona, anche in Abruzzo, modificano le misure di sicurezza. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della Regione ha deciso di rafforzare le procedure attuando opere su misura ad ogni provincia, città e comune per aumentare la tranquillità nelle città che con gli eventi estivi sono sempre più affollate. Ad esempio, lungo la riviera Pescarese, all'altezza della Madonnina al confine con Montesilvano e in prossimità della nave di Cascella sono presenti fioriere in cemento armato antisfondamento e nei pressi delle zone dove sono previsti eventi barriere in cemento del tipo New Jersey per prevenire gli attacchi come quelli di Parigi, Berlino e Barcellona. L'assessore Antonio Blasioli al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza afferma che c'è massima attenzione nonostante a oggi non sia stato diramato alcun allarme. A Teramo sono cambiate le procedure per manifestazioni ed eventi pubblici. L'organizzatore, pubblico o privato di un evento, deve produrre in prefettura almeno 30 giorni prima dell'evento una relazione con la programmazione e le misure di sicurezza ad attuare. Un esempio è stato messo a punto durante la Coppa Interamnia dove è stato limitato l'accesso di persone in Piazza Martiri. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, promette misure di sicurezza anche a settembre per l'evento Sport sotto le stelle. Nella città di Chieti il punto sensibile è il Corso Marruccino. Riunioni straordinarie del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in collaborazione con le Forze dell'Ordine sono state fatte per proteggere il salotto buono della città. Sono previsti dissuasori sia all'entrata che all'uscita in modo da sbarrare il transito agli autoveicoli. Si è deciso di controllare il territorio secondo lo schema degli anelli concentrici. Ovviamente nel primo anello i controlli sono più stringenti anche attraverso il divieto di consumo delle bevande in vetro e in lattina oltre al rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza. Nell'Aquilano sono presenti diversi obiettivi sensibili già conosciuti alla Prefettura, quindi già monitorati come ad esempio il sito di Telespazio della Marsica, i laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso d'Italia, il deposito militare di San Cosimo e Sulmona, le dighe di Campotosto, basiliche e manifestazioni come la perdonanza celestiniana e il Festival Jazz. Le misure di sicurezza ipotizzabili per i grandi eventi sono barriere ai varchi dei percorsi, stazioni mobili di forze di polizia con uomini in borghese, unità cinofile e utilizzo di metal detector.